Dopo la denuncia del candidato sindaco del Movimento Liberi e Forti del rischio di trasferimento del comando dei carabinieri da Agropoli a Capaccio, ha replicato Roberto Mutalipassi, già assessore al bilancio dell'amministrazione Coppola e attuale candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, il quale ha rivendicato la presenza nel piano triennale delle opere pubbliche di un intervento di 5 milioni di euro da fare in località Marrota. Tale rassicurazione è stata però rispedita al mittende via social dallo stesso Pesce, il quale ha ribadito che dopo quel passaggio il Consiglio Comunale non ha dato seguito agli adempimenti successivi, lasciando l'iter completamente bloccato da più di un anno. La paura che possano esserci pressioni da parte dell'attuale sindaco di Capaccio Pestum per bloccare la procedura a favore della città dei Templi, un'accusa grave che non mancherà di essere ripresa anche dai palchi di questa accesa campagna elettorale.